Qui ci sono 500 euro, chi vince il più challenge se la giudica Prima challenge, il primo che fa traboccare il vaso verde Ma è troppo bello, abbiamo fatto una pozione magica Ok, è già qua, inizia ad essere un po' complicato Ok È difficilissimo questa cosa Mamma mia Massima concentrazione Sbambi Cosa hai da dire? Che sono una p***a Quei soldi li vincerai io, li vincerai tu Io io, io io, io io Che cosa ho creato? La nostra voce fa vibrare questa cosa per farmi capire Guardate là, è fuori, è finito Se faccio, vieni a ballare la scrivania e mi f***a praticamente No, no, non è possibile Non ci credo neanche io Non penso di aver vinto È vero, ha vinto male È andata, come sarà lì Seconda challenge, il primo caffè era tutto e cipolli mette al volo, vince Vai Allora sicuramente sarà un po' difficile, però proviamo Cinquantesimo tentativo, stavolta dobbiamo riuscirci Soldi, 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 soldi Le prossime due challenge sono challenge bonus che ci faranno guadagnare solo più soldi Quindi questa è una sfida guerra aperta Nella prossima sfida dobbiamo far ruotare la bottiglia e giudicarci una delle vote nel traguardo Ok, questa sarà un po' difficile, proviamo ad aggiudicarci, non dico il cinquantone, ma almeno la venti di cash Mamma mia Oh my god E il vincitore di questa sfida sono io In questa challenge abbiamo quattro oggetti, un centesimo, un giocattolo, un anello e 50 euro Quindi partiamo, allora adesso mi giro e mi schiaro a voi, non vedo, vedo solo un pulsante rosso, il cinquantone finale Poniamoci l'obiettivo a meno 20.000 iscritti, ce la possiamo fare Questo è un gioco d'azorto Allora, vedo delle forme che potrebbero essere indicative oppure no Vedo due cose interessanti, potrei sbagliare come non potrei sbagliare, proviamo Ah, sbagliare il tuo È molto bello È arrivato il mio momento di mischiare, quindi procediamo Cosa pensi, potresti vincere un bel gioco attuale? Due mi, non so, due mi dicono qualcosa di buono Tipo? E gli ricordi alle due estremità, o di qua o di qua Scegli bene Potrebbe essere buono o non potrebbe essere buono Direi... Eh, apri E Mario ti ha indicato il cinquantone Ultima challenge, Butterfree Il primo che tanza 2 punti vince Vai, partiamo Stavolta è la volta burla Oh, non neanche visto 2,50 sono miei Fate arrivare questo video a mezzo milione di risuolo, così ci rifacciamo i soldi È il cinquecento euro, però ne tagliano Ok ragazzi, però gli ho iscritto e non è rubo, io li ho salvato Te...